Cari amici ascoltatori, benvenuti e bentrovati in questa nuova rubrica che abbiamo chiamato Science News, così semplicemente perché desideriamo informarvi e quindi divulgare le ultime notizie, curiosità e scoperte in ambito scientifico, ma in senso lato. Quindi la rubrica sarà periodicamente basata su una specie di eco della stampa specializzata dalla quale riporteremo le novità salienti che l'informazione scientifica ci comunica attraverso i suoi più rinomati canali. Tranquilli quindi, niente bufale o informazioni pressapochistiche. Citeremo sempre la fonte e l'autore degli articoli. Spot per tutti e in tutti i campi dello scibile scientifico che possano naturalmente interessare voi ascoltatori. Segnalateci quindi il vostro pensiero, le vostre conclusioni e perché no i vostri eventuali desideri. Detto questo, prima di partire con la prima puntata di Science News, consentitemi di ringraziare tutti per gli ascolti e in special modo coloro che hanno scelto di divenire followers di Quantum Talk Radio e siete oltre i mille. Si cresce insieme quindi, con lo scopo di aumentare la nostra conoscenza e la nostra consapevolezza. L'obiettivo finale è diverso ed è particolare per ognuno di noi, ma il percorso è ciò che rappresenta il nostro viaggio dentro noi stessi, magari attraverso lo studio dell'universo che ci circonda, dai quanti alle galassie. Grazie a tutti per l'accompagnia durante il percorso. Ed ora sigla! Eccoci qua, allora non possiamo non iniziare questa nostra prima puntata riferendoci all'editoriale di Marco Cattaneo nella edizione di Scientific American, o le scienze per l'Italia, relativa al mese di agosto. L'articolo si intitola Un odissea inquietante e rivela il lato oscuro della vicenda giudiziaria di Ilaria Capua. Il 5 luglio, con la sentenza di Laura Donati, giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Verona, si è conclusa un'odissea giudiziaria che ha coinvolto una quarantina di persone. Per 16 indagati era stato chiesto il rinvio a giudizio per una serie di reati che disegnavano un quadro cupo, associazione per delinquere, finalizzata corruzione, ricettazione, somministrazione di medicinali pericolosi per la salute pubblica, procurata epidemia. Quest'ultimo è un reato per cui è previsto vergastolo. Questo procedimento è salito alla ribalta della cronaca perché tra gli imputati figurava Ilaria Capua, parlamentare dal 2013 con scelta civica. Veterinaria, celebre virologa, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dieci anni fa aveva rivoluzionato le pratiche del settore rendendo pubblico il genoma del virus dell'influenza aviaria H5N1, come racconta lei stessa nell'intervista che è stata pubblicata sul numero di marzo, sempre delle scienze. Delle indagini e della sentenza si è occupata la stampa, ma vale la pena soffermarsi su alcuni aspetti inquietanti della vicenda. Per quanto riguarda l'accusa di epidemia, la sentenza recitava mancanza prima di tutto dell'evento e quando agli altri capi di accusa più gravi che comprendono la diffusione non più controllata dal virus dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli del nord Italia, con grave pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, si legge testualmente e dunque evidente come gli inquirenti abbiano stravolto gli esiti dell'inchiesta bolognese, per costruire accuse del tutto prive di fondamento perché poggianti su elementi fattuali non corrispondenti alle emergenze processuali. Secondo i capi d'accusa, dal punto di vista scientifico emergono incongruenze incomprensibili e forse inaccettabili, alla luce dei tempi geologici per cui si è protratta l'inchiesta. Si confondono i ceppi virali H7N3-IT e H7N3-Pakistan, per esempio, che sono molto diversi. E' come dire che una decappottabile rossa è necessariamente una Ferrari, invece no, può essere anche una 500. Dipende dal motore e questi due virus hanno un motore molto diverso. O ancora si legge che la somministrazione illecita dei vaccini avrebbe determinato un grave pericolo per la salute pubblica, derivante dal consumo della carne, oggetto della vaccinazione indiscriminata. Ma l'influenza aviaria non è una zoonosi a trasmissione alimentare. Non vi sono mai stati casi legati al consumo di carne. Oltre dieci anni di indagini, insomma, sono serviti a chiedere un rinvio a giudizio e ci si domanda perché non un'archiviazione, caso mai, sulla base di errori grossolani o sulla costruzione di accuse prive di fondamento. E viene spontaneo chiedersi perché non siano stati consultati esperti virologi che avrebbero potuto tranquillamente liquidare questi aspetti risparmiando tempo e danaro alla pubblica amministrazione e anni di tormento agli indagati. Ilaria Capua se ne è andata in Florida? Così non abbiamo perso solo una ricercatrice di alto profilo ma anche una persona che con il suo lavoro ha contribuito tra il 2006 e il 2012 a fare incassare all'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie oltre 12 milioni di euro in finanziamenti alla ricerca extra budget e sappiamo quanto sia cruciale in questi anni di vacche magre una leadership in grado di catalizzare fondi internazionali. Con quei fondi sono stati pagati decine di ricercatori, PHD all'estero, attrezzature, soprattutto il centro diretto da Ilaria Capua è diventato un punto di riferimento a livello internazionale. Viene spontaneo anche pensare all'indagine aperta dalla procura di Lecce riguardo all'epidemia di Xilella in Salento, di cui si è parlato molto in tutta la stampa, auspicando che le cose non procedano così a rilento e con lo stesso pressappochismo nell'interesse degli indagati ma anche del Salento e dei suoi olivi. questa è una problematica che pare sia stata risolta dai Salentini e degli stessi olivocultori con delle tecniche molto naturali e si è in fase di risoluzione di questa problematica, di questa fantomatica, Xilella, che qualcuno e noi anche in modo particolare temiamo sia una di quelle calamità, tra virgolette, prodotta in laboratorio da chi forse vuole annientare l'economia italiana e soprattutto di certe zone per inserire i suoi olivi magari geneticamente modificati. Quindi non facciamo nomi ma tanto avete capito tutti di chi stiamo parlando. Ecco, ora passiamo ad una notizia un po' più amena, diciamo, ma interessante, il nuovo chilogrammo. Voi sapete che finora si è usato un cilindro composto da platino e iridio usato da cento e ventisette anni come riferimento per la definizione del chilogrammo. Potrebbe questo sistema andare in pensione sostituito da uno standard legato a una proprietà invariante della natura. In questo caso stiamo parlando della costante di Planck che potrebbe diventare appunto lo standard per questa unità di misura. La costante di Planck associa la frequenza di una particella quantistica alla sua energia, a sua volta legata alla massa da E uguale mc quadrato. Lo suggerisce un articolo su Review of Scientific Instruments che descrive le prestazioni di dispositivo messo a punto dallo statunitense National Institute of Standards and Technology grazie a cui il valore della costante di Planck è stato ottenuto con una incertezza di 34 parti per miliardo. Gli autori della misurazione ritengono di poter portare entro l'anno prossimo questa incertezza a 20 parti che è la soglia richiesta per guadagnare lo status di standard di riferimento. Altra notiziola ma che non è una cosa da poco è l'avvio di ITER. L'ITER è il prototipo di reattore nucleare a fusione in costruzione a Karadash in Francia. È stato posticipato però ancora una volta e il primo plasma è previsto per il 2025. Lo ha annunciato l'Iter Council, l'organo di governo del progetto che vede coinvolte Unione Europea, Russia, Stati Uniti, Cina, India e Corea del Sud e pure il Giappone e porta a dimostrare la fattibilità industriale di reattori che producono energia elettrica sfruttando la reazione di fusioni di nuclei atomici, in questo caso tra atomi di deuterio e tra atomi di trizio. Non è la prima volta che la data del primo plasma di ITER è posticipata principalmente a causa di problemi nella gestione del progetto. Si veda pezzi mancanti della fusione in le scienze numero 528 dell'agosto 2012. Alla partenza ufficiale del progetto nel 2006 però il primo plasma era stato previsto proprio per il 2016, anno in cui traguardo è stato spostato ancora più avanti. Vi ricordate che nelle prime puntate, nei primi podcast di scienza e coscienza abbiamo parlato della fusione fredda, abbiamo parlato anche della fusione calda e la fusione fredda è stata abbandonata perché non porta guadagni a nessuno, mentre invece la fusione calda, abbiamo parlato di macchine che si chiamano tokamat, cose di questo genere, rileggetevi un po' il percorso perché quindi questa fusione calda è quella che verrà utilizzata. Si tratta pur sempre di una fusione atomica, non so personalmente dirvi quali potrebbero essere eventuali problemi di ricaduta, abbiamo sempre a che fare con l'atomo in modo violento, non in modo persuasivo come invece ci ricordava il grande professore Emilio Del Giudice quando ci parlava della fusione fredda. Quindi vedremo che cosa succederà. Noi non siamo molto contenti ma purtroppo questo non fa testo. Bene, ora passiamo a un personaggio che ci piace molto e immagino piace molto anche a voi che viene definito il matematico impertinente. Stiamo parlando di Pier Giorgio Di Freddi che ricordiamo è professore ordinario di logica matematica all'Università di Torino e Vice-Hitting professor alla Cornell University di Itaca, New York. L'articolo si intitola 23 gradi e mezzo geometria della rotazione della Terra e dei suoi effetti sull'isolazione del pianeta. Sembra sia stato Parmenide a intuire per primo che la Luna non brilla di luce propria ma della luce riflessa del Sole. Nel suo libro Il mondo di Parmedite, edito da PM 1998, Karl Popper considera questa scoperta come la scintilla che portò alla nascita della filosofia dell'essere, capendo infatti che le fasi lunari non dipendono da cambiamenti interni della Luna ma sono solo apparenze esterne prodotte dal suo movimento e dalla luce del Sole. Parmenide ne avrebbe infatti dedotto che dietro al mutevole divenire della Luna e in più in generale di tutte le cose si nasconde uno stabile e immutabile essere. Parmenide naturalmente visse attorno al 500 a.C. e bastarono tre secoli per trasformare le sue timide anticipazioni in una sofisticata teoria dei moti celesti. Lo testimonia il poema Hermes del matematico Eratostene che morì verso il 200 a.C. In un frammento dell'opera il Dio si eleva in cielo e osservando dall'alto della Terra la vede divisa in cinque zone astronomiche, la zona torrida attorno all'equatore, le due calotte polari gelate e le due zone temperate intermedie. Per definire le cinque zone in materia precisa è necessaria una conoscenza dettagliata dei moti apparenti del Sole che non sono affatto banali. A prima vista sembra infatti che esso si limiti a girare giornalmente in cerchio attorno alla Terra ma durante l'anno ci si accorge che l'orbita circolare si muove nel cielo alzando e abbassando il percorso del Sole a seconda delle stagioni. Agli inizi Anassagora immaginò che il piano dell'orbita giornaliera del Sole si muovesse parallelamente a se stesso in su e in giù nel corso dell'anno come un soffietto. Ma Aristarco ebbe un'intuizione molto più precisa e capì che ci si poteva ridurre alla combinazione di due moti. Un percorso annuale del Sole attorno a un centro accoppiato a un percorso giornaliero del centro attorno alla Terra e i due percorsi avvenivano su due piani inclinati tra loro di un angolo di circa 23 gradi e mezzo, più precisamente 23 gradi e 27 primi. Un valore che si può facilmente determinare dividendo per due l'angolo formato dall'altezza massima e minima del Sole ai due solstizi. Aristarco notò anche che, ponendosi dal punto di vista del Sole, il tutto si poteva riformulare in maniera equivalente dicendo che la Terra compie un percorso annuale di rivoluzione attorno al Sole e un percorso giornaliero di rotazione attorno a se stessa e che l'asse di rotazione è inclinato di circa 23 gradi e mezzo rispetto al piano dell'orbita, chiamato eclittica. Se l'asse di rotazione fosse perpendicolare all'eclittica, la zona torrida si ridurrebbe al solo equatore, dove il Sole sarebbe perpendicolo a mezzogiorno di ogni giorno dell'anno, mai altrove. Le calotte polari, invece, sarebbero ristrette ai circoli polari individuati dalle tangenti tirate dal Sole alla Terra, ovvero dai confini estremi del cono d'ombra terrestre. Sulle calotte il Sole non tramonterebbe mai, dovunque il giorno sarebbe più lungo della notte, sempre con la stessa durata, senza solstizi o equinozi né stagioni. A causa dell'inclinazione dell'asse terrestre, invece, i paralleli su cui il Sole raggiunge gli estremi del suo percorso si situano a circa 23 gradi e mezzo dall'equatore. Si chiamano Tropico del Cancro a nord e Tropico del Capricorno a sud e determinano gli estremi della zona torrida in cui il Sole si vede a perpendicolo almeno una volta all'anno. Il che succede due volte è a distanza temporale diversa da due giorni consecutivi ai tropici, a cavallo di uno dei solstizi, a sei mesi di distanza all'equatore, agli equinozi che corrispondono ai punti di intersezione del piano equatoriale con l'eclittica. I paralleli su cui il Sole raggiunge il massimo possibile della sua durata giornaliera si situano invece a circa 23 gradi e mezzo dai poli. Si chiamano Circolo Polare Artico a nord e Circolo Polare Antartico a sud e determinano gli estremi delle zone in cui il Sole si vede per tutto il giorno almeno una volta all'anno, con il cosiddetto sole di mezzanotte. Il che succede un numero di volte diverso, da sei mesi consecutivi ai poli a un solo giorno ai circoli polari, a uno dei solstizi. All'altro si ha invece il fenomeno simmetrico del Sole che non si vede mai durante il giorno, con il cosiddetto buio di mezzogiorno. Dovunque si ha invece il fenomeno dei cosiddetti equinozi in cui il giorno dura quanto la notte. All'equatore questo succede ogni giorno e nel resto della Terra solo due volte l'anno. Agli equinozi appunto che ai poli dividono equamente il periodo del Sole di mezzanotte da quello del buio di mezzogiorno e all'equatore dividono verticalmente le zone a giorno della Terra da quelle della notte. Non c'è niente di nuovo, chiaramente, però ogni tanto giusto per ripassare i nostri moti rivoluzionari, in questo caso purtroppo solo astronomici. Passiamo ora alla cosmologia, un articolo di Emiliano Ricci, sempre su Le scienze di agosto 2016. Più relatività nell'universo è il titolo. Sviluppati modelli del cosmo che tengono pienamente conto delle equazioni di Einstein. I cosmologi sanno che per descrivere l'evoluzione dell'universo sono necessarie le equazioni della relatività generale, ma sanno anche che non è semplice risolverle. Ecco perché fino ad oggi l'evoluzione delle strutture era calcolata attraverso simulazioni a n corpi interagenti sotto l'effetto della gravitazione universale di Isaac Newton. Più semplice da trattare, certamente, ma non altrettanto efficace nel descrivere quello che ci rivelano le osservazioni. Ora, due gruppi indipendenti hanno sviluppato per la prima volta modelli relativistici di un universo in cui i codici numerici tengono pienamente conto dell'equazione di Albert Einstein. Il primo gruppo, guidato da Glenn Starkman della Case Western Reserve University di Cleveland in Ohio, ha applicato allo studio dell'espansione dell'universo i modelli sviluppati per l'analisi di oggetti compatti relativistici come buchi neri e stelle di neutroni. L'analisi numerica impiegata su un universo giocattolo, Toy Universe, contenente già in partenza una distribuzione disomogenea di materia coerente con le osservazioni, ha dimostrato l'esistenza di differenze sensibili nell'evoluzione, rispetto ai precedenti metodi di calcolo non pienamente relativistici. Grazie al loro modello, descritto su Physical Review di Starkman e colleghi, hanno inoltre potuto verificare l'azione della curvatura dello spazio-tempo sulla propagazione della radiazione elettromagnetica. Il secondo gruppo è composto da Eloisa Bentivegna dell'Università di Catania e da Marco Bruni dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito. I due ricercatori italiani hanno applicato un modello simile a quello di Starkman e colleghi, partendo tuttavia da condizioni iniziali diverse. Lo studio pubblicato su Physical Review Letters rivela che il tasso di espansione aumenta in maniera significativa nelle regioni a densità minore, mentre nelle regioni ad alta densità il collasso gravitazionale procede più rapidamente da quanto previsto dai modelli tradizionali. Entrambi gli studi confermano dunque l'importanza di affrontare lo studio della cosmologia con modelli più accurati che tengano conto di tutte le implicazioni della relatività generale. Ed ora l'ultimo articolo di questa prima puntata di Science News riguarda la medicina e si riallaccia alle trasmissioni che abbiamo recentemente inserito nei nostri podcast. Parliamo di immunità contro le malattie autoimmuni. L'articolo è di Giovanni Sabato, sempre sulle scienze di agosto. L'immunità contro le malattie autoimmuni abbiamo visto quanta importanza abbia dimostrato di possedere nelle puntate che abbiamo fatto recentemente sulla cura, sulle sperimentazioni e la cura dei tumori, delle neoplasie attraverso il nostro sistema immunitario. Quindi sperimentata sui topi una terapia che rimuove solo gli anticorpi responsabili della patologia e questo è già un passo bello grosso avanti. Quindi si può combattere una malattia autoimmune sfruttando la parte sana del sistema immunitario per eliminare quella malata? Lo ha dimostrato, ma finora solamente sui topi, uno studio pubblicato su Science da Jaime Payne dell'Università della Pennsylvania a Filadelfia in collaborazione tra gli altri con Giovanni Di Zenzo dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. Il penfigo è una malattia in cui alcune cellule immunitarie, linfociti B, producono anticorpi contro una proteina della pelle e delle mucose, la desmogleina 3. Per curarla, Payne ha manipolato altre cellule immunitarie, i famosi linfociti T, così che uccidano selettivamente quelle responsabili della malattia. Allo scopo ha usato una tecnica già in sperimentazione contro alcuni tumori, ne abbiamo già parlato, ha modificato il recettore con cui i linfociti T riconoscono il bersaglio, fondendolo alla desmogleina. I linfociti modificati riconoscono quindi come bersaglio le molecole che si legano alla desmogleina, cioè gli anticorpi antidesmogleina, e attaccano le cellule che li espongono. Infatti, una volta iniettati nei topi, i linfociti modificati hanno attaccato selettivamente quelli dannosi, abbattendo nel numero e attenuando in modo considerevole i sintomi del penfigo. Essi sono mostrati capaci di sopravvivere a lungo. I ricercatori intendono ora verificare la tecnica nel cane, anch'esso soggetto al penfigo, per poi passare agli studi sull'uomo. Il successo non è scontato perché testata contro il cancro la terapia sta dando esiti molto promettenti, ma anche qualche effetto indesiderato grave, che abbiamo anche già visto. Se però i risultati saranno positivi, questi linfociti potrebbero garantire una terapia di effetto duraturo e mirata, che non abbatte l'immunità in modo indiscriminato, come fanno le terapie immunosoppressive odierne. Una terapia selettiva è sempre stato il sogno di chi lavora su queste malattie, ma finora non era mai stata realizzata. La tecnica potrebbe essere estesa ad altre malattie autoimmuni dai meccanismi analoghi, in cui è preso di mira un singolo antigene, mentre sembra più difficile un impiego contro malattie più complesse come la sclerosi multipla. Diciamo questo a corollario di quanto avevamo già pubblicato nelle ultime due nostre puntate. Per oggi direi che ci fermiamo qui, vi abbiamo dato una serie di notizie che spero vi siano risultati interessanti e continueremo in questa rubrica con questo stile e con questo modo di comunicarvi le ultime novità. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona giornata. arrivederci a tutti.